e quindi dopo le mie minchiate colossali aspetta sono un idiota e che continuano perché mica sono finite benissimo tutti i nuovi e come a tua discrezione ottimo ora prima di andare prima di andare nel vuoto ma lo so forse io un po' la mamma puttana allora mi sono fatto male alla mano tanto per cazzo riprendo non mi ricordo se nemmeno se questa sia stata giusta no non lo è devo fare tutt'altro casino ma come cazzo puoi prendermi ogni fottuta volta che respiri ora no sempre qui poi di nuovo qui poi boccetta ok va bene e mi prendo apre e scende ok oh non ci sono più non ci sono più merda va bene perché ho fatto una schivata non richiesta ok ok e allora che ho sbloccato quella cosa lì molto felice di ciò che ho sbloccato è una nonna è una nonna incompleta il bambino si è addormato per metà ok divertiti divertiti ok fuoco perfetto perfetto ma un bel checkpoint è un'altra volta che ho sbloccato una volta riceverne mille al non riceverne un po' eccessivo ok ecco eccessivo esatto ma non ci arrivo io lì no non non ci arrivo va bene andiamo in basso ma è lì che devi andare vabbè aspettate andiamo anche qui è lì che è lì che è lì che è lì oh va bene lo stesso io sono a posto aspetta non c'è niente non c'è niente eh vabbè dai tanto ti viene il cancro domani aspetta così ok ok no ci arriva comunque al massimo assolutamente sì ok io li stavo adividendo al boss voglio uscire ok 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 non sembra niente che io possa prendere ora o meglio questo si è alta di una nanna incompleta ecco 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 la cosa non mi piace quasi di più rispetto al calpino io quella cosa non mi piace di più ma l'ascolto di continuo e non scherzo c'ho tutta su spotify andiamo eh immaginiamo vivo vivo di nuovo dentro di questa ingrata e fria envoltura metallica vivo vivo in questa casa con la forma di lo che hace molto fu il mio corpo vivo e sento che sto dirigito per forza che socavano mi albedrìo vivo anche a cerrar los ojos en la noche intima tras mis parpados sigo muerto ok non è che potessi fare altrimenti è come quell'altro non mi viene il nome non mi viene minimamente il nome però cazzo quello che c'è da su quello che è nel primo aveva tipo la testa via mirale non mi viene il nome ok 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 no va ne aia Ma è lo stesso per battere, no? Un'infianta dormiente, cioè? Aia! Mafta! Oh! Oh! Ohia! Ohia! Cazzo! Pensavo c'è i passi fin lì! Y Ma è devastante! Ok, allora, nella prima e nella seconda fase sono complicate prese così. Ma la prima e la seconda fase messi insieme di qualche cazzo... ... 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 che ora il problema è che non sono arrivato a toglierli manca un poco di vita ma manco un poco quindi mentre ora per una per un primo attacco completamente improvviso ok io non so perché non stava andando all'inizio ok eh vabbè però ciccio io ho una cosa posso guardare ma come cazzo si schivano quelli lì cioè io non so come schivarli eh vabbè pensavo che rimanesse per un po' di tempo in più ma questa boss fight è complicata questa boss fight è complicata allora cosa vuoi fare per primo? ok ok ah così ok ok eh vabbè vabbè fa un culo un po' ok ok ma perché ce l'hai con questa mossa eh? mai fatta così tante volte ok 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 non va bene Eh vabbè, però... Dio santo... Ok... Bene. Bene. Ok... Raya... Questa è fatta. Una decina di minuti. Posso andare molto peggio. Mi aspettavo peggio. C'è, era l'impatto terribile. Alla fine con un po' di... ...skill e un filo di buco di culo nello schivare per i fottocchi aghi verdi di merda. Ehm... Non è così... Sì, la difficoltà l'hanno notevolmente abbassata, voglio di gran lunga. L'hanno uso molto più accessibile. E ci può stare. Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Mi cuerpo... ...me ha sido devuelto al fin. Soy ahora dueño de estas carnes. De este temblor. De esta agonía. Qué dulce el dolor... ...cuando es el nuestro. Benitente... ...que venís a testiguar el milagro. Helo aquí, pues. Mas aquel ruego fue tan humilde y verdadero que... ...el milagro... ...cuyas elevadas razones escapan siempre a nuestro entendimiento. Despertó. Despertó allá dondequiera que se mantuviese dormido y... ...conmovido por la dulce melodía de tan nobles súplicas. Bendijo a esta pareja de fieles devotos. Otorgándoles su deseado hijo. El moribundo día declina ya a su luz celeste... ...haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas... ...que yo marcharé donde espera este terrible sueño. Que no... Que oscuro. Hola, autismo. No, 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 no. Cheño en toda la fada. No, no. No, no. No, no, no. Ah beh, sto già dov'è. Non... Non è che sia proprio nascosto altro, devo fare le scale. Che altro? Mi preoccupa il fatto che praticamente non ci sia un salvataggio da lì a questa parte. Ok. Ahia, mi prendi. Ma io prendo te. Sì, ho una sveglia alle 10 o un quarto. Certo, perché sono andato poi a dormire. Allora, non mi voglio fare domande. Ok. Ok. Fa un culo. Ah, perché io sto facendo sto giro in merda? Ok. 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 L'ascensore. Cazzo, sfruttiamolo, no? Ah, ok. Mi è dato una schermata paurosa YouTube. Ho pensato che fosse un problema, sono uno dei vecchi video. E mi salvo un filo cacando. Questo. Quinti... 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 Quinti bo... Ok. Più scendo Che sei? In realtà che dritto Vai comunque le state chiuse C'è le state là La porta chiosa Però Facciamolo un tentativo Ecco aspetta Non è che qui tipo Oh no Qui c'è il tuo Ok Ok Via Ecco ora però Tipo per gli specchi o quant'altro In questa zona c'era qualcosa Ma sto maneggiando io? No C'è assolutamente qualcosa Perfetto Perfetto Facciamo così Mi succhi Mi succhi L'uccello E salviamo di nuovo Perché non mi fido Perché Dovrei Uscire dal gioco No No Vado Mi Grazie a tutti.